Carissimi ragazzi ci troviamo con questo nuovo video, mi raccomando mettete un bel mi piace per cominciare e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cominciamo subito Oggi voglio annunciare e parlare anzi delle rapine in banca che ci saranno suggerite online La Rockstar ha annunciato le rapine in banca per il 16 dicembre perché un utente Rockstar ha chiesto quando usciranno queste rapine e gli hanno risposto che usciranno il 16 dicembre Quindi potremmo vedere quella dannatissima porta che state vedendo ora aperta Quindi per questo video è tutto, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo con un prossimo video Ciao